Questa è l'avventotesima edizione del premio di poesia organizzato dal Club Donegani, un premio che in passato si chiamava premio Paniscia e ora viene invece denominato da tre anni premio di poesia Club Donegani. È un premio che si articola in due sezioni, quella italiana e quella dialetale, per ogni sezione diamo tre premi al primo, secondo e terzo classificato. Ma a me preme soprattutto dire che questo premio è dedicato a dottor Francesco Traina, un personaggio di spicco della ricerca italiana, non solo nazionale ma addirittura internazionale, poi è andato in pensione e è diventato anche un uomo di punta della cultura novarese. Lo ricordiamo veramente con tanto effetto e simpatia, abbiamo avuto anche il figlio, abbiamo dedicato una targa a questo personaggio commemorativa, aggiungo che continueremo l'anno prossimo nella stessa linea, dedicandolo nuovamente a un personaggio diverso, sempre della ricerca, diremo chi è a tempo debito. 25 poesie partecipanti di un certo livello culturale. La gente è rimasta molto contenta e siamo felici di aver potuto dedicare questo premio al dottor Franco Traina e di aver ospitato il figlio Mario Traina. Grazie.